Sostituisci gli infissi e paghi la metà. È la fantastica occasione per sfruttare al meglio l'EcoBonus statale. Finestral si occupa di seguire l'intero iter burocratico. Tu devi solo scegliere l'infisso che ti piace e lo paghi al 50%. Risparmio energetico e risparmio economico in un unico intervento. Apri l'occasione EcoBonus 2020. Aprila e Finestral.